Meno male che ci sono i video di Simone, meno male che mi hai chiamato perché altrimenti io restavo a casa va bene ci vediamo dopo, meno male che posso attivare i sottotitoli così quando non capisco qualcosa comunque riesco a leggere ciao amiche e ciao amici della lingua italiana nel video di oggi parliamo dell'espressione meno male o meno male se state imparando la lingua italiana siete nel posto giusto, bravi e brave io sono Simone e qui su Italiano in 7 minuti vi parlo di diversi argomenti tra cui viaggi, libri, cultura, arte, modi di dire, grammatica italiana per aiutarvi a migliorare in lingua italiana per non perdere i prossimi video ricorda di iscriverti al canale e attivare la campanella iniziamo innanzitutto meno male si può scrivere o come parola intera quindi meno male oppure come meno male io personalmente preferisco la grafia meno male quindi con due parole staccate quando userete questa espressione meno male non avrete bisogno di sapere se l'espressione ha due parole oppure una sola parola quindi non preoccupatevi ricordate soltanto che quando scrivete potete scriverla in entrambi i modi per capire questa espressione partiamo innanzitutto dalle parole che formano l'espressione ovvero meno e male ho parlato in questo video della parola meno vi consiglio di andarlo a rivedere ed è una parola che traduce qualcosa di più piccolo, limitato, ridotto, qualcosa in meno o avere qualcosa in meno significa o non avere quella cosa oppure averne in minore quantità averne un po' meno ad esempio hai 100 euro? no mi dispiace ne ho un po' meno circa 80 quindi meno traduce avere qualcosa in quantità ridotta, in quantità limitata la parola male invece traduce qualcosa di negativo qualcosa che danneggia la persona o danneggia la cosa ad esempio potrei dire uscire ieri senza il giubbotto mi ha fatto male perché oggi sono raffreddato quindi qualcosa che fa male è qualcosa che danneggia, che provoca un danno quindi qualcosa che fa male più una cosa fa male più cerchiamo di evitarla meno male significa proprio che una cosa che danneggia o una cosa che fa male viene ridotta o viene limitata quindi questa espressione racchiude proprio il significato di queste due parole meno e male l'espressione meno male significa per fortuna o fortunatamente infatti in moltissimi casi potete sostituire per fortuna con meno male e viceversa potete sostituire meno male con per fortuna se non l'avete ancora visto vi ricordo di andare a recuperare questo video in cui parlo delle parole fortuna e sfortuna e spiego anche il significato dell'espressione per fortuna vediamo alcuni esempi per imparare a usare meno male meno male che si è arrivato in tempo significa per fortuna si è arrivato in tempo meno male che non pioveva significa per fortuna non pioveva meno male che abbiamo deciso di prendere il bus significa per fortuna abbiamo deciso di prendere il bus meno male che ci sono i video di Simone per fortuna ci sono i video di Simone in tutti questi casi l'espressione meno male traduce per fortuna o fortunatamente quindi traduce che un evento è andato bene oppure che qualcosa è stato evitato per fortuna ci sono alcuni casi in cui meno male può essere una frase a sé quindi può essere usata da sola ad esempio siete riusciti a vedere l'ultimo video? ho sentito che in Italia non c'era connessione e voi mi potreste rispondere sì sì abbiamo visto il video senza problemi e io vi potrei dire meno male quindi il meno male proprio come l'espressione per fortuna traduce una sensazione di sollievo una sensazione di rilassatezza per fortuna siete riusciti a vedere il video meno male che siete riusciti a vedere il video sono contento bene amici spero che questo video vi sia piaciuto meno male che ci siete voi a sostenermi scrivetemi nei commenti se conoscevate già questa espressione oppure no e come sempre ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon, Ko-Fi e TP è un sostegno importantissimo per me perché non solo mi permette di migliorare la qualità e la quantità dei video ma mi permette anche di pagare dei collaboratori che stanno lavorando a degli strumenti che presto vedrete sul canale vi mando un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao